Sì, adesso non so non so questo è un'altra oh crimine, non male che gli ha messo di cuore mattini perchè si si beccava quel bestiale di 200 kg mi ha ammazzato quello lato è quello lì, quella cosa gialla che viene, però ha sparato e immaginato il primo minuto è mangiato in casa Italia 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 Iscriviti con Baruntas Noi vogliamo questa vita! 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 Noi vogliamo questa! Noi vogliamo questa vita! 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 Noi vogliamo questa! 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 No vogliamo questa! Noi vogliamo questa! Noi vogliamo questa!